Neri, sconto salvezza tra Rimini e Gubbio per la giornata numero 29 del girone BDC. Martini confermi il 3-5-2 con Arlotti e Piccioni in attacco. 4-2-3-1 per Galderisi che ripropone Tofanari in difesa e Malaccare a centrocampo. Passano neppure 90 secondi e Palma calcia dal limite, Marchegiani alza sopra la trasversale. Al sedicesimo Casiraghi riceva centrocampo e scala le marce sulla destra arrivandosi in area. Assistenza arretrata per De Silvestro che arriva con tempi perfetti a rimorchio, ma il suo Mancino da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta. Al diciassettesimo Maini sfila palla Arlotti e calcia dalla distanza, sfera alta sopra la traversa. Quarantunesimo minuto, ottima trama che parte da Malaccari, transita per Davì, viene rifinita da Chinellato ancora per l'inserimento di Malaccari che penetra in area e ca da terra dinanzi al portiere Giacomo Nava dopo un contatto con Guiepre. Proteste vibranti del numero 7 del Gubbio che viene anche ammonito nella circostanza, ma per l'arbitro Maria Marotta di Sabri è tutto regolare, anche se sembra esserci, il tocco del laterale Burkinabè sul tallone di Malaccari. Si passa alla ripresa e Martini cambia il centravanti, inserendo Buonaventura per Piccioni e al 55esimo proprio il neo entrato brucia sul tempo e specie, decentrandosi a sinistra. Poi doppio dribbling, ancora fulle Argentine su Malaccari e conclusione dei viati in corner da Tofanari. Al 61esimo Arlotti prende palla sulla tre quarti, si sposta sulla destra, cross in mezzo proprio per Buonaventura, colpo di testa che lascia di stucco Marchegiani, ma il pallone colpisce solo il pallesterno, terminando poi a lato. Al 78esimo Tavernelli, subentrata Cattaneo, converge da sinistra e serve la corrente Casiraghi, conclusione sul primo palo bloccata da Nava. 82esimo minuto, Fulminea ripartenza Rosso Blu, De Silvestro elude un raddoppio servendo di prima Casiraghi, tacco principesco a liberare Malaccari che dinanzi a sé vede il deserto di Gobi in riviera, controllo orientato e con l'esterno che non lascia scampo a Nava per il vantaggio del Gubbio. Primo sigillo in campionato per il Jolly, nativo di Iesi, che corre a festeggiare sotto il settore riservato ai supporters Rosso Blu. Una gioia che dura però davvero un battito di ciglia, perché il Rimini riparte dal cerchio di centrocampo buttando palli in avanti. Una serie di batti e ribatti dinanzi l'area Gubbina premia l'intraprendenza di Buonaventura che anticipa specie facendo arrivare palla all'entrato Cicarevic, che serve nuovamente Buonaventura, bravo a sfuggire alla difesa Gubbina e a trafiggere Marchegiani con un destra giro che si insacca all'angolino. 12 i secondi passati da quando il gioco è ripreso e neppure 60 complessivi dopo il gol di Malaccari e il Rimini ha già impattato grazie alla seconda realizzazione in campionato del suo numero 9. Nel recupero un ultimo brivido passa sulla schiena di Rosso Blu quando Marchegiani esce a vuoto sul croft di Valerio Nava e Cicarevic non riesce ad impattare la sfera a porta pressoché sguarnita. Finisce 1-1 il Gubbio conserva un punto di vantaggio sui Romagnoli salendo a 33, a 4 punti dai play-off e altrettanti dai play-out, agguantando così la Ternani in classifica e lunedì 11 alle 20.45 al Barbetti e in programma proprio l'attesissimo derby contro i Rosso Verdi. Io sono sempre arrabbiato quando vedo che le cose vanno in questo modo, sono arrabbiato sono molto... No no, parliamo di calcio, no no no, io non sono qui a giudicare l'albitro. Beh insomma, se vedete i rigori che ci danno a noi quando vengono le squadre, vi rendete conto che qualcuno può girare le scatole, ma non voglio parlare di robe che non mi competono perché io non sono qui a giudicare gli altri, sono qui a fare il mio lavoro, però non sono né giapponese e non sono neanche parrucchiere, sono 40 anni che faccio il calciatore e l'allenatore, porca, madosca, più chiaro di queste, delle cose che vedo, comunque parliamo di calcio. No no, noi veniamo da una settimana dove le partite sono andate tutte nel modo sbagliato nel senso che ogni piccolo episodio che ci ha condizionato, ogni piccolo errore ci ha messo, ci ha fatto passare quasi per tutti i coglioni perché questa è una squadra che invece sta giocando molto bene da quando io sono qua e le difficoltà le abbiamo gestite male, perciò è normale che il nostro appoggio è stato vigoroso, voglioso, ma di fronte c'era un Rimini che è partito con la stessa cosa, ha fatto anche una buona partita, faccio i complimenti a Marco Martini che è un ragazzo che adoro e che stimo moltissimo, però piano piano poi siamo venuti fuori noi, perché ci sta, il calcio è fatto così, l'importante era non andare a trovarsi in difficoltà ancora, perciò la massima attenzione, la massima sui piccoli particolari e sul modo di posizionarsi in campo ci ha permesso di soffrire e nello senso di passare questo momento, poi dopo credo che la squadra ha fatto quello che doveva fare e non ho avuto neanche il tempo in dieci secondi di fare un cambio nel momento che abbiamo fatto gol e questo ci deve fare riflettere.